Natale è un concordato per tutto il vicinato di tante parentele nate in Israele o nate in Istanbul. Natale si festeggia uguale anche laggiù. Siamo tanti fratelli, Natale dice a quelli, vicini e lontani anche con gli italiani. Figuriamoci con il Peru e poi con il Bangladesh, compreso gli Slavi, ecco che c'è d'amore e d'accordo il Natale che fa per me. Natale, il miglior periodo per fare un regalo e quindi il dono. Il dono, benché sia, è un gesto anche un omaggio gradito, incita alla gioia di chi manifesta e all'euforia di chi resta. Pensa all'allegria nel riceverlo con tanto affetto, ricambiato poi con qualche bacetto, veramente dato con il cuore ma poi con tanto amore. Buon Natale a tutti da me con Salvi Massimo e da Cecher. Grazie. Grazie.